Rieccomi qui carissimi telespettatori di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo per questo venerdì. Arriverà un'altra perturbazione atlantica, questa porterà fenomeni più concentrati al nord-est sulle regioni tirreniche, anche con locali forti rovesci o temporali a rilosso dei rilievi. Altrove tante nubi, qualche schiarita, nubi alte, senza particolari conseguenze, il protagonista di giornata però sarà senza dubbio il vento di Ponente e di Libercio, che soffieranno in maniera molto forte su buona parte del centro-sud. In Abruzzo una giornata variabile, maggiori densamenti nelle aree interne, nubi compatte in appennino con qualche sporadico scroscio di pioggia, specie al confine con Lazio, altrove velature, cieli poco nuvolosi senza particolari conseguenze. Il clima sarà mite, fino a 25-26 gradi le temperature massime alle basse quote e lungo le coste, 18 gradi sull'Aquila, anche le minime in tutto sommato non saranno poi così tanto basse. Il vento sarà forte di Libercio e sarà proprio questo vento tiepido, proveniente dalle aree interne, che farà impegnare le temperature in pieno giorno. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo aggiornamento, sempre qui su TV6. Grazie a tutti.